Benvenuti in taverna e ben ritrovati nel sesto episodio della piccola serie di video volta a spiegare a tutto tondo le varie vocazioni presenti in Dragon's Dogma Dark Arisen. La volta scorsa abbiamo continuato l'argomento delle vocazioni avanzate con il nostro caro stregone. Oggi invece lo concludiamo con la vocazione avanzata dell'arciere, ovvero il cacciatore. Io sono Leech e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma il cacciatore è un combattente specializzato nel combattimento a distanza che grazie alla sua tremenda precisione e letalità risulta essere un vero e proprio ocecchino sul campo di battaglia che in pochi colpi può travolgere completamente le sorti di un combattimento. La sua arma principale è l'arco lungo. Questo rispetto all'arco corto impiega più tempo a essere teso e rallenta ulteriormente i movimenti di cui lo imbraccia. Tuttavia di tutta risposta questo riesce a tirare colpi estremamente potenti che hanno un potere di abbattimento e stordimento molto maggiore. Inoltre porta sempre con sé una coppia di coltelli che lo aiutano a destraggiarsi anche nel combattimento ravvicinato avendo tuttavia però meno opzioni in ambito di abilità rispetto all'arciere. E come quest'ultimo anche loro prediligono l'utilizzo delle armature leggere. Ma tornando al discorso principale, i cacciatori sono un ottimo componente offensivo del gruppo da di tremendi e precisi colpi che possono tirare alle varie creature senza mai stancarsi. Difatti è una vocazione che aumenta principalmente forza e stamina e quest'ultima tra l'altro ha l'aumento più grande che potete trovare all'interno di tutte le vocazioni del gioco, facendo diventare in alcuni casi il cacciatore una vera e propria mitragliatrice di frecce. Tuttavia come la sua forma base anche lui può adattarsi veramente a tutte le situazioni che si possono incontrare. Ma ora come di consueto passiamo alla parte più concreta, ovvero i dati di gioco. Il cacciatore è una delle tre vocazioni avanzate che potrete scegliere una volta arrivati a Gran Soran e una volta raggiunto il livello 10. Questa nello specifico ovviamente è la vocazione avanzata dell'arciere e come potete vedere nelle tabelle a schermo, come la sua forma base è una crescita molto ben bilanciata che poi va a spiccare verso il lato offensivo favorendo attacco fisico e stamina senza lasciare vere e proprie debolezze in altri ambienti. Ma per entrare ancora più nello specifico, queste sono le tabelle di crescita di un cacciatore. Come già detto in un altro video dove spiego come funziona l'aumento delle statistiche che troverete sotto in descrizione, esistono in breve tre range di livello dove le statistiche del vostro personaggio aumenteranno in modo differente. Ma mettete pure in pausa il video per sbirciare per bene l'aumento delle statistiche di un cacciatore puro con base da arciere. Ma ora che abbiamo analizzato il suo role nel gruppo e progredire dalle sue statistiche, parliamo delle sue abilità e capacità di classe. Partendo dalle sue core skill, abbiamo affettare e sbloccata fin da subito, questa è la combo di attacchi leggeri della vocazione del cacciatore che può essere ripetuta anche all'infinito. Se usata mentre si salta, questa consisterà in una piccola sfuriata difendente a mezz'aria. È molto utile per tranciare le code e colpire punti deboli anche mentre ci si arrampica sulle creature di taglia grande. Doppio tempo. Sbloccata fin da subito, questo è l'attacco pesante del cacciatore e consiste in due affondi consecutivi che possono essere anche ripetuti all'infinito e che hanno un potere di stordimento leggermente più alto degli attacchi da affettare. Se usata durante il salto, questa consisterà in un affondo impicchiata con entrambi i pugnali. Mentre se usata quando ci si arrampica sulle creature consisterà in un potente affondo. Piromane, sbloccata al primo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di doppio tempo e permette di sferrare un terzo e più potente affondo dopo i primi due aumentando ancora di più il potere di stordimento. Questa manovra si esegue tenendo premuto il pulsante dell'attacco pesante. Cesello, sbloccata al primo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di affettare e permette di sferrare e direzionare dopo le prime coltellate fino a quattro velocissimi calci. Questi infliggeranno danni di tipo contundente e non potranno infliggere debilitazioni di stato derivanti da possibili infusioni nei pugnali. Tuttavia hanno un ottimo potere di abbattimento e stordimento sulle creature di taglia piccola. Inoltre sono tremendamente utili per rompere le difese avversarie e per infliggere ingenti danni a tutte quelle creature deboli e danni contundenti come scheletri e golem. Questo si esegue facendo una piccola pausa mentre si effettua affettare per poi continuare a premere il tasto dell'attacco leggero. Doppio volteggio, sbloccato al quinto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità permette all'utilizzatore di eseguire una sorta di doppio salto che risulta estremamente utile sia durante l'esplorazione che in combattimento vista l'ottima agilità che dona a chi ne fa uso, dato che è una manovra estremamente utile per raggiungere luoghi alti, per muoversi più agilmente mentre ci si arrampica sulle creature, per evitare attacchi in arrivo e così via dicendo. Tuttavia una cosa da precisare è che questa abilità è utilizzabile solo quando si usano i doppi pugnali. Caprioli in avanti, sbloccato al quinto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità permette all'utilizzatore di eseguire una schivata che lo rende completamente invulnerabile ai danni. Questa non ha costi di stamina e varia la propria distanza in base all'altezza del personaggio che la utilizza. Inoltre durante il suo utilizzo la stamina si rigenera come di consueto e anche questa può essere utilizzata solo quando si usano i doppi pugnali e insieme a doppio volteggio donano alle vocazioni che usano queste armi un'agilità senza pari. Tuttavia piccola chicca da veterano e da speedrunner. Caprioli in avanti può essere alternata con lo scatto per viaggiare molto più velocemente dato che la distanza percorsa e la velocità superano quella del normale passo di marcia. Inoltre come detto poc'anzi la distanza percorsa varia in base all'altezza del personaggio e avendo l'altezza massima possibile questa manovra riesce persino quasi a raggiungere lo scatto rendendola un must per chi vuole viaggiare velocemente. Scoccare sbloccata fin da subito questa è l'abilità che permette al cacciatore di attaccare a distanza tramite l'utilizzo dell'arco. Questa manovra non consuma o blocca la rigenerazione della stamina e può essere anche eseguita mentre si salta. Tuttavia a differenza della controparte dell'arciere questa ha un potere di abbattimento e stordimento molto più alto. Scocco rapido sbloccata al secondo rango della vocazione del cacciatore questa abilità è la forma avanzata di scoccare e aumenta di circa il 20% non solo la velocità di attacco base con l'arco ma anche la velocità di tutte le skill dell'arco che possono essere attivate più volte di fila e che vedremo durante la sezione delle abilità inerenti all'arco lungo. E queste erano le core skill del cacciatore che ci fanno capire quanto nell'atto pratico sia praticamente uguale all'arciere in tutta la sua base e di quanto sia a suo agio all'interno della maggior parte delle situazioni che si possono incontrare grazie alla sua tremenda agilità e adattabilità sia a lungo che a corto raggio. Ma ora passiamo alla mega lista di abilità che il cacciatore può sbloccare e potenziare mentre avanza in questa vocazione. Come detto prima le armi utilizzate da un cacciatore sono una coppia di coltelli e un arco lungo e entrambi permettono di guaggiare tre abilità all'uno per un totale di sei abilità attive. Ma partendo dai doppi pugnali andiamo subito a dare un'occhiata alle abilità che queste armi hanno da offrirci. 100 api sbloccata fin da subito questa sarà la prima abilità offensiva di un cacciatore e permette di concentrare in un unico punto una sfuria da difendenti che si conclude poi con un potente calcio rotante. La prima serie di colpi ha un potere di stordimento molto buono in grado di tenere ferme sul posto la maggior parte delle creature di taglia piccola ed è estremamente utile per debilitare le creature rompendo parti o staccando code. Mentre il calcio oltre a infliggere ovviamente danni contundenti ha un potere di abbattimento e stordimento molto buono in grado di far volar via la maggior parte delle creature di taglia piccola. Inoltre continuando a premere il pulsante assegnato all'abilità si può prolungare ulteriormente la durata di questa raffica senza consumare ulteriore stamina per sferrare un totale di 20 fendenti per combo completamente eseguita. Infine quest'attacco può essere anche utilizzato mentre ci si arrampica sulle creature sortendo il medesimo effetto. Turbine di lame. Sbloccata al primo rango della vocazione del cacciatore questa abilità permette di scattare a grande distanza a lame protese verso un bersaglio effettuando dei rapidi fendenti che possono essere ripetuti fino a tre volte di seguito senza consumare ulteriore stamina dopo il primo utilizzo. I vari fendenti possono essere anche effettuati su bersagli differenti se si direzione l'abilità e grazie alla grande distanza che percorre questo è anche molto utile per velocizzare i viaggi o anche per schivare i colpi avversari. Slancio esplosivo sbloccato al terzo rango della vocazione del cacciatore questa abilità permette di effettuare con la lama un montante che lancerà in aria il bersaglio per poi in seguito innescare una piccola esplosione sulla povera vittima. Quest'abilità può sollevare in aria la stragrande maggioranza delle creature piccole e infligge un totale di quattro colpi di cui uno del coltello e tre da parte dell'esplosione che ovviamente infusa con l'elemento del fuoco nel primo colpo. Tuttavia c'è da decisare che l'esplosione potrà essere innescata solo se il primo colpo è andato a segno ma ciò non necessita per forza il sollevamento della creatura. Ergo può essere anche molto utile per colpire parti alte di alcune creature grandi ma il suo principale utilizzo rimane quello di creare scompiglio e inibire la capacità di agire delle creature piccole. Bufera di lame sbloccata al quarto rango della vocazione del cacciatore questa abilità è la forma avanzata di turbine di lame e potenzia l'abilità in tutti i suoi aspetti aumentando a 5 il numero di colpi che si possono effettuare aumentando di molto i danni e la velocità di esecuzione. Presa abbagliante e sbloccata al quarto rango della vocazione del cacciatore questa abilità permette di lanciare un petardo che all'esplosione stordisce tutte le creature a portata. Tuttavia questa abilità non stordisce le creature volanti ed è pressoché inutile contro creature di taglia grande, rendendo questa abilità utile solo a infastidire creature di taglia piccola e media che rimangono stordite per un buon tempo. Per quanto riguarda invece il danno inflitto questa abilità è formata dal lancio del petardo e dall'esplosione di quest'ultimo. Nel secondo caso il danno è nullo, mentre nel primo il danno inflitto scala sull'attacco magico e fisico dell'utilizzatore e affligge solo un singolo bersaglio che deve essere colpito dal petardo prima di esplodere. Questo tuttavia può infliggere con una bassa possibilità debili di azioni di stato derivanti dai vari incantamenti dei doppi coltelli. Quindi facendo il punto della situazione sì, è un'abilità utile per alcuni frangenti ma che non vale assolutamente alla candela rispetto a altri. Ripristino sbloccato al quarto rango della vocazione del cacciatore questa abilità permette a chi la utilizza di ritornare istantaneamente una posa neutrale eliminando qualsiasi apertura causata da altre azioni. Detta così non si capisce molto ma usando un gergo più normale questa abilità essenzialmente annulla qualsiasi animazione che si sta eseguendo al momento. E ciò implica che si può ridurre di tantissimo la durata di quasi tutte le altre abilità o addirittura annullarle in caso ci si renda conto di aver commesso un errore. State scattando con turbine di lame dentro un attacco nemico? L'animazione di raccolta di un materiale troppo lunga? Ecco a voi che entra in gioco ripristino. Va precisato tuttavia che mentre si è in aria può essere utilizzato solo una volta ma rimane a tutti gli effetti un'abilità veramente valida per aggiungere ulteriore agilità all'utilizzatore e la sua forma avanzata è ancora meglio ma ne parleremo più tardi. Guizzo esplosivo sbloccato al quinto rango della vocazione del cacciatore questa abilità è la forma avanzata di slancio esplosivo e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche ingrandendo l'esplosione innescata e potenziando il montante iniziale con il pugnale che ora può sollevare da terra anche creature di taglia media rendendola ancora più utile per interrompere e disturbare le tattiche avversarie. Morza abbagliante sbloccata al settimo rango della vocazione del cacciatore questa abilità è la forma avanzata di presa abbagliante e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche aumentando del doppio la portata dell'esplosione del petardo lanciato. Mille api sbloccata al settimo rango della vocazione del cacciatore questa abilità è la forma avanzata di cento api e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche aumentando di molto la velocità di esecuzione della sfuriata e portando a 30 il numero totale difendenti. Ripristino rapido sbloccata al settimo rango della vocazione del cacciatore questa abilità è la forma avanzata di ripristino e in aggiunta agli effetti che già aveva può ora essere anche utilizzata per ritornare in una posizione neutrale quando si viene colpiti, storditi o abbattuti da un colpo avversario rendendola ancora più utile per togliersi da tutte quelle situazioni rischiose. Tornado di lame sbloccata equipaggiando l'anello dei pugnali o la fascia dei pugnali che potete trovare nel DLC di nero abisso questa abilità è la forma finale di bufera di lame e potenzia l'abilità sotto tutti i suoi punti di vista portando a 7 il numero di difendenti eseguiti e potenziando enormemente velocità di esecuzione, danni e distanza percorsa facendo diventare l'utilizzatore un vero e proprio tornado di lame in grado di colpire bersagli multipli in un attimo. Infinite api sbloccata equipaggiando la fascia dei pugnali che potete trovare nel DLC di nero abisso questa abilità è la forma finale di 1000 api e potenzia sotto ogni punto di vista l'abilità portando a 40 il numero di difendenti eseguiti aumentando all'inverosimile danni e soprattutto velocità di esecuzione della combo completa che non aumenta di durata rispetto alla sua forma base. E questo era tutto per quanto riguarda le abilità che hanno da offrirci i doppi coltelli. Come potete notare rispetto all'arciere le abilità sono molte di meno, tuttavia sono abbastanza da permettere al cacciatore di potersi difendere a distanza ravvicinata. Ma ora passiamo all'altra branca di abilità, ovvero quelle dell'arco lungo. Prima di cominciare però ci tengo a fare una piccola precisazione che molti ignorano quando utilizzano l'arco in generale, ovvero che all'interno di Dragon's Dogma noi possiamo trovare e creare ed equipaggiare varie tipologie di frecce speciali tra esplosive, pietrificanti, accecanti e che più ne ha più ne metta. Ebbene sappiate che queste frecce possono e devono essere utilizzate insieme a queste abilità per farne uscire il vero potenziale nascosto. Ma iniziamo. Freccia brutale, sbloccata fin da subito, questa sarà la prima abilità offensiva di un cacciatore e permette a chi la utilizza di incanalare tutte le forze in una potente freccia che una volta scoccata vola dritta verso il bersaglio. Potenzia di abbattimento e danno di questa scalano direttamente con le statistiche dell'arco utilizzato e come per altre abilità che abbiamo visto in passato, anche questa ha tre tempistiche con cui può essere rilasciata. Se viene rilasciata troppo presto questa avrà le caratteristiche di una normale freccia scoccata. Rilasciata in ritardo infliggerà circa due volte il danno e infine con un tempismo perfetto questa scoccherà una potentissima freccia che infliggerà ben quattro volte il danno, con annesso un fortissimo potere di abbattimento e stordimento che è in grado di abbattere e far volare via parecchie creature se utilizzata nei punti giusti. Il rilascio perfetto viene effettuato non appena la barra dell'abilità si caricherà pieno e questo può essere anche osservato grazie al bagliore bianco che metterà l'utilizzatore. Infine, piccola chiccata veterano. Come detto prima questa abilità è molto buona per stordire e abbattere molte creature, ma la sua utilità non finisce qui, dato che è anche in grado di disarmare i ciclopi se si colpisce la loro mano armata con il rilascio perfetto. Colpo da 7, sbloccata al primo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità permette all'utilizzatore di scoccare contemporaneamente 7 frecce in un'ampia rosa a mo' di fucile a pompa. Il danno, a differenza di freccia brutale, scala sia sulla forza dell'utilizzatore che sull'arco utilizzato ed è molto potente a distanza ravvicinata o per gestire grandi orde di nemici. Freccia mortale, sbloccata al terzo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di freccia brutale e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche aggiungendo un ulteriore livello di carica. E con questo anche altri moltiplicatori in base al tipo di rilascio. Se scoccata troppo tardi, questa infliggerà semplicemente il doppio dei danni, mentre con un tempismo perfetto, questa infliggerà ben 6 volte il danno con un annesso un potere di abbattimento e stordimento che diventa ancora più potente e che ora, con il giusto equipaggiamento, è in grado di abbattere sempre al 100% qualsiasi creatura del gioco. Blocca piedi, sbloccata al terzo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità permette di scoccare una freccia in grado di inchiodare per circa 8 secondi, creatura di taglia media e piccola a superfici come muri e affini, lasciandoli in batteria degli attacchi che seguiranno. Per far sì che ciò accada, il bersaglio colpito deve schiantarsi contro un muro, tuttavia di contro non è possibile utilizzare questa abilità su creatura di taglia grande o inchiodare al terreno i bersagli colpiti. Infine, le pedine utilizzano questa abilità molto bene per creare situazioni di vantaggio. Freccia in 6 tempi, sbloccata al terzo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità sarà quella che probabilmente utilizzerete di più dato che permette di scoccare a ripetizione 6 frecce in rapida successione. E sì, non ho detto a caso a ripetizione, dato che potete letteralmente utilizzarla a oltranza fino a quando avrete della stamina a disposizione. Nello specifico utilizza 150 punti di stamina utilizzo e come immaginerete crea una vera e propria mitragliatrice di frecce soprattutto quando utilizzata in combo con frecce esplosive e affini. Quindi divertitevi. Colpo del meteorite, sbloccata al quarto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è una vera e propria botta di cecchino a grande gittata che permette all'utilizzatore di entrare in una visuale di precisione in prima persona. La freccia scoccata infligge più danni quanto più è lontano il bersaglio colpito. Ma non è tutto, dato che questa freccia inoltre trapassa al 100% le creature colpite, dando la possibilità all'utilizzatore di colpire punti deboli da posizioni scomode o di colpire moltiplici bersagli piccoli uno dietro all'altro. Ma non è ancora tutto. Dato che come ciliegine sulla torta questa abilità ha anche, infine, un enorme potere di abbattimento in grado di tirare giù tutte le creature del gioco se colpite nei punti giusti. Grigori vi carica. Colpitegli il cuore con questa. Un drago un grifone non scendono dal cielo? Cuore e testa sono un bersaglio facile. Un ciclope crea scompiglio con la sua clava? Quella a mano è un buon bersaglio. Insomma, sbizzarritevi. Soprattutto se pensate al fatto che potete ovviamente anche utilizzarla insieme alle frecce speciali come frecce esplosive, pietrificanti e quant'altro. Colpo da 11, sbloccata al quarto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di colpo da 7, potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche portando ora a 11 il numero di frecce che vengono scoccate nella rosa. Blocca corpo, sbloccata al quinto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di blocca piedi e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche portando ora a 16 secondi la durata dell'immobilizzazione della creatura colpita dalla freccia. Baccano volante, sbloccata al quinto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità permette di scoccare una freccia che all'impatto esplode come una piccola freccia esplosiva, generando un rumore molto forte che stordisce momentaneamente tutte le creature a portata. Colpendo invece direttamente una creatura, questa volta a subire il danno dell'esplosione, verrà anche lanciata in aria subendo i danni da caduta, anche se alla fine della questione è un'abilità molto terziaria. Turbine in 10 tempi, sbloccata al quinto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di freccia in 6 tempi e potenzia l'abilità in tutte le sue caratteristiche portando il numero di frecce che vengono scoccate a 10 per esecuzione dell'abilità. Freccia turbinante, sbloccata al sesto rango della vocazione del cacciatore, questa abilità richiede la carica di una barra e permette di scoccare una freccia che tramite un effetto trivella colpirà fino a 6 volte le creature che si trovano sul suo percorso. Questa è una di quelle abilità che diventa molto utile per infliggere debilitazioni di stato tramite armi arrugginite e affini e soprattutto tramite le frecce elementali, fatto ovviamente eccezione per le frecce esplosive che esplodono una volta sola. Però capite bene come utilizzare solo una freccia della pietrificazione anziché 6 sia una cosa molto più vantaggiosa sotto parecchi punti di vista. Colpo della cometa, sbloccata al settimo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di colpo del meteorite e potenziali abilità sotto tutti i suoi punti di vista permettendo ora inoltre di ingrandire ulteriormente la visuale in prima persona premendo la levetta destra del controller. Per il resto rende solo più devastante tutto quello che vi ho elencato prima. Baccano spaventoso, sbloccata al settimo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di Baccano volante, potenziali abilità sotto tutti i suoi punti di vista aumentando del doppio la portata e la potenza del rumore generato dall'esplosione della freccia. Freccia invasiva, sbloccata al settimo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità permette di scoccare una freccia intresa di una tossina che indebolisce tutte le difese fisiche della creatura colpita per circa 25 secondi. Questa subirà il 25% di danni extra da ogni fonte fisica e avrà una protezione dall'abbattimento e dallo stordimento ridotta del 20%. Essenzialmente gli fate più male e la butterete a terra molto più facilmente. Tuttavia c'è da precisare che con le creature giganti questo accadrà solo alla specifica parte del corpo che viene infettata. Colpite la gamba del ciclope e quanto detto verrà inflitto solo ad essa. Quindi capite bene come sia molto utile per mettere in difficoltà e abbattere le creature di taglia grande. Freccia spirale, sbloccata all'ottavo rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di freccia turbinante e potenzia l'abilità sotto tutti i suoi punti di vista e oltre a richiedere la carica della seconda barra aumenta a 12 il numero di colpi che possono essere inflitti rendendo ancora più utili le varie frecce elementali. Freccia debilitante, sbloccata al nono rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di freccia invasiva e purtroppo aumenta solo a 50 secondi la durata dell'effetto. Tuttavia ciò vi permette di tirarne molteplici quando si tratta di cacciatore giganti. Volere della sorte, sbloccata al nono rango della vocazione del cacciatore, questa abilità all'utilizzo consuma tutta la stamina e permette di scoccare una freccia che potrete controllare per tutto il suo tragitto. Durante il volo tutto andrà a rallentatore e il danno della freccia sarà direttamente collegato a ogni aspetto dell'utilizzatore, tra arco, statistiche e ovviamente anche alla stamina che avete consumato. Per ogni punto di stamina utilizzato infliggerete 4 danni e so che possono sembrare pochi, ma tenete bene a mente che il cacciatore è la vocazione che più tra tutte aumenta la stamina e già utilizzando banalmente 1000 punti si arriva a fare 4000 danni. La freccia inoltre può essere controllata fino a 50 metri e può essere ulteriormente potenziata se si utilizzano tutti quegli oggetti che aumentano momentaneamente la stamina e ciò rende perfetta questa abilità all'abbattimento di bersagli grandi e volanti. Questa infine risplende al suo massimo soprattutto quando si utilizza in combinazione con le frecce esplosive. Grande scommessa, sbloccata al nono rango della vocazione del cacciatore, questa abilità è la forma avanzata di volere della sorte e potenzia sotto ogni punto di vista l'abilità portando a 75 metri la distanza massima a cui puoi arrivare e a 6 il numero di danni per punto di stamina speso rendendo questa abilità una vera e propria botta dei cannoni in grado di tirare giù persino il grande e potente Grigori che vi carica impicchiata dall'alto. Freccia funesta, sbloccata equipaggiando l'anello del cacciatore o la fascia del cacciatore che potete trovare nei DLC di Nero Abisso questa abilità è la forma finale di freccia mortale e questa, oltre ad aggiungere una terza barra di caricamento ha anche lei altri due modi in cui può essere rilasciata. Scoccato troppo tardi si infliggerà 6 volte il danno mentre con un tempismo perfetto il moltiplicatore salirà ben 8 volte. Tutto questo ovviamente anche con un enorme aumento di poteri di abbattimento e stordimento generato dalla freccia. Blocca tutto, sbloccata equipaggiando l'anello del cacciatore o la fascia del cacciatore che potete trovare nei DLC di Nero Abisso questa abilità è la forma finale di blocca corpo e semplicemente aumenta a 24 secondi la durata dell'immobilizzazione inflitta alla creatura. Freccia vortice, sbloccata equipaggiando l'anello del cacciatore o la fascia del cacciatore che potete trovare nei DLC di Nero Abisso questa abilità è la forma finale di freccia spirale e questa, oltre ad aggiungere una terza barra di caricamento porta a 18 il numero di colpi inflitti dalla freccia. E queste erano tutte le abilità che ad offrirci l'arco lungo. Come avrete potuto notare sono molto diverse tra loro e si possono adattare a molte situazioni rendendola a lunga distanza il dominio di un cacciatore. E ricordate che ognuna di queste abilità può essere utilizzata in sinergia con le frecce speciali e le varie capacità. So che non mi sono soffermato ad elencarle tutte ma per farla breve esiste una freccia per ogni debilitazione che sia fisica o magica e soprattutto esistono frecce con effetti unici e extra ma sta a voi trovarle. Ma dopo questa megalista passiamo infine all'ultima branca di cose sbloccabili della vocazione del cacciatore, ovvero le capacità che come sappiamo sono condivise da tutte le vocazioni del gioco quindi una capacità sbloccata con il cacciatore sarà utilizzabile anche dal guerriero, dal mago o chiunque sia ma vediamo cosa ad offrirci il cacciatore. Longevità sbloccata al secondo rango della vocazione del cacciatore questa capacità, come dice la descrizione aumenta semplicemente la vita massima di chi l'equipaggia di 100 punti e può essere anche utilizzata in combo con altre capacità affini per aumentarla ulteriormente. Radiosità sbloccata al secondo rango della vocazione del cacciatore questa capacità, come dice la descrizione aumenta l'area illuminata dalla lanterna del 20% tuttavia questa cosa accade solo se equipaggiata dalla Risen mentre le pedine non possono usarla. Efficacia sbloccata al sesto rango della vocazione del cacciatore questa capacità, come dice la descrizione aumenta del 20% l'efficacia degli oggetti curativi che ripristinano la salute e la stamina tuttavia l'effetto viene attivato solo se chi utilizza lo strumento l'ha equipaggiata. Morbosità sbloccata al sesto rango della vocazione del cacciatore questa capacità aumenta del 30% l'accumulo delle debilitazioni di stato di natura fisica che vengono inflitte con ogni colpo questo la rende veramente molto buona per infliggere status come silenzio, cecità, torpore e affini voglio però aggiungere una piccola chicca da veterano per chi non lo sapesse in Dragon's Dog ma le armi d'oro arrugginite e anelate inizialmente sono abbastanza basic tuttavia se potenziate sviluppano la possibilità di infliggere debilitazioni come silenzio, cecità e compagnia ecco utilizzando quelle armi in combo con questa capacità farete i buchi traiettoria sbloccata al sesto rango della vocazione del cacciatore questa capacità aumenta del 30% la distanza a cui le frecce di tutti gli archi possono colpire efficientemente i bersagli archi lunghi e corti passano da 90 metri a 117 mentre l'arco magico passa da 60 metri a 78 precisione sbloccata all'ottavo rango della vocazione del cacciatore questa capacità diminuisce di tantissimo la rosa in cui vengono scoccate le frecce degli archi quando si spara a ripetizione o mentre si salta questo viene applicato anche a tutte le abilità che abbiamo citato prima che comprendono una grande cadenza di scocco aumentando di molto la precisione generale stabilità sbloccata all'ottavo rango della vocazione del cacciatore questa capacità previene tutti gli stordimenti e abbattimenti che sono causati da folate di vento e affini queste includono il battito delle ali di grifoni e arpie, il ruggito di draghi e chimere fino ad arrivare a cose più particolari come esplosioni di barilotti esplosivi o gli urli dei fantasmi e questo è tutto quello che c'era da sapere sul cacciatore, qual è il suo potenziale, cosa da offrire, qual è idealmente il suo ruolo e così via la prossima volta inizieremo con le vocazioni ibride quindi in caso il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi che sono cose che danno sempre una gigantesca mano ma come di consueto piccolo momento di spam personale, sotto in descrizione troverete il mio link da affiliato a Istan Gaming e Amazon e acquistando tramite quei link potrete supportarmi in modo completamente gratuito trovando inoltre tantissimi giochi e software a poco se volete invece supportarmi direttamente potete unirvi alla gang dei gorgiotti tramite il mio canale Twitch questo vi darà accesso a piccoli dietro le quinte, grafiche per le live e anche l'accesso ai video e serie offline in anteprima in caso, grazie di cuore infine mi trovate in live sul sito Viola ogni settimana da lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti io sono Leach e la taverna sta chiudendo, grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video